Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale e oggi raccogliamo le mele! Ci sono anche i cavalli, possono anche raccogliere albicocche, le pesche e albicocche, poi si possono raccogliere albi, pesche, sprugne e pesche, poi le pesche, poi le ciliegie e pesche, le ciliegie! Qui spiegano come si raccogli tutti, e mi raccomando, stay safe! Siete luridissime! Abbiamo fatto il pieno! E adesso le portiamo a casa! Ecco le nostre! Siamo tutti imbattati! Ma è stato bellissimo! Ciao!